Io non credo che ci sia nessuno ad essere obiettivo, persino gli analisti, lo dico senza voler mettere in dubbio le parole di Andrea Marcelletti che conosco e stimo, tutti partono da una posizione, tutti partono da un'opinione che poi le esprimano o no. Quello che a me preoccupa, Mirta, e sono giorni che ci giriamo intorno, è che noi siamo arrivati a un punto in cui ci sono due tipi di domande. La prima è quanto l'Occidente sia disposto ad andare avanti su una linea veramente efficace di contrasto a Putin, perché se noi continuiamo, prima Tommaso Ceno diceva che siamo alla vigilia di decisioni importanti, quali Tommaso? Perché io vedo soltanto delle sanzioni che, a vedere i grandi magazzini, il centro delle città russe, delle sanzioni che stanno per colpire più noi che loro per il momento, anche perché diverse sono le abitudini della grande Russia. Vedo gas che viene ancora acquistato, vedo un ricatto sull'acquisto in rubli, vedo che tutti quanti fanno anche trattative nascoste con la Russia, parlo di risorse energetiche perché in questa situazione siamo e non possiamo raccontare bugie su quanto tempo ci metteremo a diventare un pochino più autonomi o meno dipendenti. Quindi vedo questo tipo di discorso, cioè che cosa siamo risposti a fare? Io sono una sostentrice del primo giorno della no-fly zone, sono convinta che se sia stata applicata molte altre volte non sia scoppiata nessuna guerra mondiale o che comunque siamo al quarantesimo giorno di guerra e l'abbiamo trascinata. E dall'altra parte, scusami ma per me è importante il fatto che quei signori a una parte dei quali va la mia stima e il mio rispetto, ma che dibattono anche loro a partire da antiche ideologie, che sono abbastanza poco utili oggi, quei signori non rappresentano nessuno se non un'elite, ma questa nazione e non so il resto d'Europa ma temo che siamo nella stessa condizione, da questa guerra nonostante le immagini disastrose, dolorose, terribili, criminali che si trasmettono ogni giorno, è distante perché preoccupata ancora della pandemia, delle bollette, del freddo, del buio, della crisi economica... Cioè tu mi stai dicendo che ci stiamo commuovendo e emozionando, ma quando ci sarà la vera scelta tra cambiare il nostro stile di vita, perché questo vorrà dire fare l'embargo totale, cambiare il nostro stile di vita e dare una mano agli ucraini, segneremo il nostro benessere. Sarà tuissime, sai perché Mirta? È esattamente così e chiudo, scusami chiudo, e sai e questo è responsabilità di ogni governo, di quell'italiano perché siamo in Italia, perché il punto non è come diceva prima Marcucci, il nostro Presidente del Consiglio va in Europa, batta, sì sì, ma in Italia il nostro Presidente del Consiglio e tutti gli altri esponenti politici, oltre che dire grandi frasi come quella di Enrico Letta o frasi molto vaghe come quelle di Salvini, che cosa fanno per spiegare al popolo italiano che è necessario per noi partecipare a questa impresa e difendere l'Europa in questo modo? Cioè c'è una grande, straordinaria inadeguatezza della politica. Maria Giovanna ha un grande merito, ha un grande merito sempre, non è mai ipocrita, questo è sempre un vantaggio nelle discussioni, perché si arriva straight to the point si direbbe